le stelline raiana e raian ciao a tutti benvenuti sul canale di raiana e raian e voi che ci guardate da casa siete le stendite più grandi del web e come vedete qui sul tavolino ci sono i poppers ci sono i poppers di diverse forme quelli grandi quelli piccoli ma qui c'è una cosa bellissima quello è grandissimo a farfalla una stelline è applicato anche questi qui questi qui sono nuovi tutti questi sono nuovi questi sono nuovi e questi li avete già visti ma questi non li avete visti perché questi sono nuovi e adesso dicete raiana ma cosa faccio tutti questi poppers e quindi sapete cosa faccio scoppio ma questo è un po' benicchino questo poi se lo scoppio uno se ne va via l'altro se ne va ancora via vuole essere finito questo è troppo belichino troppo belichino non lo siamo qua è più belichino qua e adesso scoppiamo tutti questi ma cominciamo dalla più grande e dopo l'altro piccoli che sono spire poppers e questo piccolo più grande va bene cominciamo uno, due, tre la prima cosa è fatta adesso facciamo la seconda finita tutta finita tutta adesso lo lasciamo qua e facciamo queste ilicorno finita questo è super veloce anche questo anche questo è un po' mini 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 e questo quadrato per avervi già visto era il nostro primo popper fatto facciamo adesso questo bisturre facciamo adesso questo bisturre questo qui questo qui e infine il blocetto più farino farino che rimessero anche gli amicoli qua vediamo ma io non l'ho visto il rosso qua ma io non l'ho visto il rosso qua c'è anche il rosa questo è più bello questo è più bello amico stelline iscrivetevi al nostro canale tanti pollici in su e cliccate la campanellina e... ciao! ciao!